Allora, Lauria, anche alla luce delle riflessioni che faceva adesso Manghi, qual è stata per lei la molla di andare a scartabellare documenti, a cercare le persone che all'epoca avevano vissuto in prima persona questa esperienza per ricostruire una storia sconosciuta a tanti suoi coetanei probabilmente nel sindacato? Diciamo che il libro nasce da due elementi, una passione e un'opportunità. La passione è sicuramente la storia per la storia del sindacato e in particolare per la storia dell'FLM, quindi tutto il periodo dei metalmeccanici degli anni 60 e 70. L'opportunità è stata la tesi di dottorato che ho discusso un paio di anni fa presso l'Università di Modena in Reggio Emilia, quindi anche l'opportunità di avere il tempo perché questo era l'obiettivo di analizzare i documenti, intervistare i protagonisti e con un approccio anche scientifico inserire le 150 ore anche in un ambito più ampio, perché soprattutto nella tesi ma anche nel libro si inseriscono le 150 ore nell'ambito dell'azione sociale e anche sindacale di promozione umana e di educazione degli adulti, quindi partiamo dalle società di mutuo soccorso di fine 800, arriviamo agli anni 50 anche al ruolo dei sindacati nella formazione professionale, alla grande epopea vicenda delle 150 ore, gli anni anche un po' del declino e poi anche nel libro c'è una parte più attuale sulla società della conoscenza vera o presunta che essa sia. Quindi questi sono gli elementi che mi hanno portato alla ricerca, quindi prima la tesi di dottorato e poi al libro. C'è da dire anche che sono stato aiutato da tante persone e anche da alcuni tesori, per esempio nella nostra biblioteca nazionale della CISL è conservato l'intero fondo della FLM e quindi al di là dell'importanza delle testimonianze, del recuperare le riviste sindacali, forse la parte più viva e interessante che in particolare nel libro ho cercato di ampliare il più possibile è quella anche delle testimonianze dirette, avere in mano i temi degli operai piuttosto che tutti i materiali grigi, si dice così, insomma che venivano prodotti che in realtà erano delle dispense che come si diceva all'epoca partono dalle storie per arrivare alla storia, dalle storie personali per poi costruire anche una storia collettiva. Di questo tra l'altro ringrazio in particolare il bibliotecario della CISL, Enrico Giacinto che mi ha accompagnato molto in questa ricerca con grande passione. Ecco, ha parlato delle testimonianze, ce n'è una in particolare che l'ha colpita più di altri? che ci vuole raccontare? È un po' difficile, nel senso che, come dire, proprio come il titolo della trasmissione è stato un po' ricostruire un puzzle. Quindi ogni testimonianza è particolare, nel senso che se parliamo dell'intervista ai protagonisti, appunto, con Paola Pivo, Bruno Manghi, ricostruiamo le origini culturali e contrattuali di questa esperienza. Mentre ci sono altre interviste nel libro che indagano settori specifici o territori specifici. Mi viene da ricordare l'esperienza di Vicenza in cui le 150 ore, che poi si sono riciclate in altre esperienze anche attuali, si sono inserite nel carcere, si sono inserite nel manicomio, nell'occedere psichiatrico, cercando appunto anche di sollevare, abbiamo letto, abbiamo ascoltato all'inizio della trasmissione delle parole di Don Milani, di sollevare anche le parti più marginali della società e collettivamente dar loro la forza di confrontarsi con il sapere, con la conoscenza collettiva e con la cooperazione in questa conoscenza. Ecco, lei ha citato il caso di Vicenza, tutto è partito da una conquista sindacale, una conquista sindacale dei metalmeccanici, ma che si è allargata a macchia d'olio, ad altre categorie, in primis quella della scuola che è stata fondamentale e poi si è allargata anche ad altre personalità esterne al sindacato. Noi siamo andati a trovare Tullio De Mauro, che è stato una figura di spicco che ha partecipato a questa esperienza e adesso sentiamo che cosa ci ha raccontato. Professore, a suo avviso perché è importante oggi recuperare quell'esperienza straordinaria, ma ben collocata in un tempo preciso del nostro Paese? Perché oggi tornare su quell'esperienza? Per almeno due motivi. Il primo motivo è che finalmente sembra muoversi qualche cosa nella direzione auspicata dai sindacati della creazione di un sistema nazionale di apprendimento per tutta la vita o di educazione ricorrente, come la si vuole chiamare, perché l'Italia è rimasta tagliata fuori in larga parte da questo rispetto agli altri Paesi europei. C'è qualche, ci sono iniziative sparse, provinciali, comunali, ma ben poco di sistematico. Quindi siamo lontanissimi dalla percentuale degli altri Paesi dell'Unione Europea in cui il 60, 70, 80% della popolazione adulta rientra in formazione per cicli più o meno brevi o lunghi quasi ogni anno. Da noi questo non esiste sostanzialmente. Fa anche sorridere l'espressione, vedo in giro, l'espressione istruzione per gli adulti, ma perché hanno ancora bisogno di essere istruiti. Sì, molto in Italia particolarmente, stando ai dati che abbiamo per ora. E allora si riparla di questo, le 150 ore sono il riferimento forse più importante che noi abbiamo da cui attingere indicazioni per organizzare al meglio i corsi. Il secondo motivo è proprio quello della buona organizzazione di contenuti e di modi di insegnamento agli adulti. È stata un'esperienza straordinaria che ci ha insegnato molte cose, non solo per quanto riguarda l'educazione degli adulti, ma per quanto riguarda in generale l'istruzione. Oggi grandi esperti internazionali come Andreas Schindler, appunto dirigente dell'Ocse per questa parte, insistono sulla necessità di flessibilità nella impostazione dei programmi di apprendimento per i ragazzi nelle scuole. Bene, questo è uno dei risultati, cioè capire che gli steccati tra materie, non per cancellare le competenze delle materie, ma per integrarle, gli steccati tra materie vanno superati se si vogliono i buoni risultati. Beh, questo le 150 ore ce l'hanno insegnato e chi di noi ha vissuto quell'esperienza più da vicino se lo ricorda e cerca, cerca di portare questo risultato nella scuola ordinaria. Per le elementari e in parte per la media dell'obbligo ci siamo riusciti, per la scuola media superiore no. C'è una sordità in parte anche degli insegnanti che non sono informati dei fatti, ma certamente di chi dovrebbe mettere mano a un ripensamento radicale della scuola media superiore che è il punto più debole del nostro sistema scolastico. Per quanto riguarda gli adulti però, professore, lei batte molto spesso sul concetto di dealfabetizzazione di ritorno, cioè il fatto che le persone andando avanti con gli anni anziché aumentare le loro conoscenze le vanno via via perdendo. Ecco, che dimensione ha questo fenomeno in Italia? Guardi, l'ultima indagine che possediamo, ho accennato prima, ha un risultato che a mio avviso dovrebbe far saltare sulla sedia chiunque abbia responsabilità in questo paese. L'unica sedia, non solo la mia, ha subito la scossa di un salto, anche poche altre, però purtroppo nessuno dei gruppi dirigenti direi, nessuno. Perché l'ultima indagine ci dice che soltanto il 20% della popolazione adulta italiana in età di lavoro ha le competenze minime sufficienti per orientarsi nella vita di una società contemporanea. 80%? No. Cioè non sa abbastanza utilizzare, leggere e utilizzare testi scritti non sa abbastanza fare conti, leggere un grafico, capire una tabella. Vedremo l'indagine Ocse cosa ci dirà, se correggerà questo risultato di due diverse indagini. Senta professore, sta di fatto però che i giovani che dovrebbero probabilmente rientrare molti in quel 20% che le competenze le ha, perché escono stratitolati, freschi di studio, comunque commenti più fresche dalle nostre scuole, faticano a trovare il posto dove mettere a frutto i loro studi. Molti di loro sono scesi in piazza nei giorni scorsi. Io le chiedo, lei che tipo di messaggio sente di dare a quei ragazzi che chiedono una scuola in grado di dare a loro strumenti, gli strumenti necessari per inserirsi e avere una vita soddisfacente anche dal punto di vista lavorativo? Il problema non riguarda la scuola, riguarda la struttura della nostra società, non solo in Italia. Il problema di quelli che qualcuno incautamente chiamo bamboccioni, il problema di ragazze e ragazzi con un alto livello di formazione che non trovano rapidamente lavoro, è un problema generale di tante società ricche del mondo. E quindi bisogna ripensare bene come stanno le cose nell'organizzazione complessiva del lavoro e quindi non solo del lavoro, nei paesi in cui il fenomeno è più accentuato, come per esempio in Italia. Quindi bisogna che aiutino i pochi gruppi, pochi o molti, i gruppi e le persone che cercano di ripensare il funzionamento complessivo della società italiana.